Il tempo delle verifiche o se preferite degli esami non finisce mai. La debordante vittoria con la potenza non deve essere fine a se stessa. Ecco perché da oggi in poi il Pescara è chiamato a conferme continue al Degli Ulivi. Sarà quasi un testa coda. Rimarcarlo sembra scontato ma non lo è. Tassativamente evitato sottovalutare un avversario in grave difficoltà. È il momento di premere sull'acceleratore perché poi tutti i campi sono veramente complicati, lo sappiamo. Sono banalità quelle che si dicono ma perché sono reali. Quindi è possibile veramente perdere con tutti se soprattutto si perde un po' di concentrazione, un po' di determinazione, un po' di umiltà. Il tecnico Biancazzurro perde in grosso virus intestinale e desogus, infiammazione agli aduttori, ma recupera Mora e può contare sull'orientro post-squalifica di Brosco. Scelte di formazione praticamente fatte. Per dieci undicesimi fiducia agli interpreti scesi in campo con il Potenza. 4-2-3-1 plizzari tre pali. In difesa Cancellotti, Brosco, Bobben e Crescenzi. A metà campo il tandem Giabua-Craia, esterni Merola e Delemona che tra le linee raffia alle spalle di Edoardo Vergani. Andrea ultima in classifica assieme alla Viterbese con il peggiore attacco, 18 gol. Addirittura soltanto tre realizzati nelle ultime 11 partite, nelle quali i pugliesi hanno racimolato la miseria di quattro pareggi. La vittoria manca da oltre due mesi. 27 novembre, 2-0 col Giuliano al Degli Olivi, dove però Arrigoni e compagni hanno conquistato 15 dei 18 punti sin qui totalizzati. A gennaio un'autentica rivoluzione che al momento non ha assortito gli effetti sperati. 13 arrivi, l'ultimo Costa-Ferreira ex Teramo e 11 partenze. Fuori Pinelli-Ercolani e lo squalificato dal Mazzi. Sistema di gioco 3-5-2, probabile 11, Polverino-Trepali in difesa del Vino, De Franco e il Maltese Borg. Sulle fasce Ciotti e Mikowski in cabina di regia Rigoni, Mezzali, Salandria e Candellori. Davanti Bolzius e uno tra Ventola favorito e l'uruguaiano Pastorini. Così il tecnico Bruno Trocini, terzo allenatore dopo Cudini e Dudu di una stagione. A dir poco, travagliate. Abbiamo l'obbligo di provare a vincere perché la situazione necessita necessariamente di una scossa e questa la otteniamo solamente con una vittoria. Non sarà facile perché affrontiamo una squadra costruita per vincere, una squadra della grande blasona, una squadra della grandissima qualità. Però io sono fiducioso, io credo che oggi la squadra sia competitiva. Mi aspetto una grande battaglia dal punto di vista temperamentale e quindi noi dovremmo essere pronti a rispondere presente sotto questo aspetto. Bilancio precedente in terra pugliese, tre vittorie a testa e quattro pareggi ad Andrea. Il Pescara si è imposto in quarta serie nel lontano 1956 2-1 reti di Tonto Donati, Paciello e Nardi. In D nel 1973 match winner Rigotto. L'ultima volta, 29 anni fa in B, 27 marzo 1994, 1-0 nelle immagini. Lo splendido colpo di testa di Andrea Carnevale, servito da De Marco, era il Pescara di Giorgio Romignani. Sempre in B, 9 aprile 1995, Biancazzurri di Franco Oddo impattano 2-2. Su torre di Loseto la sblocca Dario Di Giannatale, pari dall'ex Ricky Massara. Nella ripresa, in grande evidenza, Voria, pallone tenuto vivo. Tunnel e cross perfetto per la precisa volée, ancora di Dario Di Giannatale, autore di una doppietta. Sembra fatta, ma così non è. Allo scadere, l'arbitro Borriello della sezione di Mantova assegna un rigore a dir poco generoso. Trasformazione affidata a Nicola Amoruso, che spiazza il giovanissimo, appena diciottenne, Morgan De Sanctis. La stagione successiva, 23 dicembre 1995, Pescara Avanti col solito Di Giannatale ispirato da Michele Gelsi. Quindi contatto la Macchi traversa. Per l'arbitro Cardona della sezione di Milano è calcio di rigore. Pazzesco, Gasparini pareggia dalla dischetto e subito dopo Scaringella realizza la rete del definitivo 2-1. 23 maggio 1999, il Pescara di Gigi De Canio passa in vantaggio con questa prudezza balistica di Vincenzo Lambertini. 1-1 di Bernardo Corradi, nel secondo tempo sorpasso Andrea con Tunisco al 21esimo sul rigore. Tutta la freddezza di Michele Gelsi finisce 2-2. L'ultimo precedente ad Andrea, 7 febbraio 2010, Serie C, pari in rimonta dei Biancazzurri di Eusebio Di Francesco. Al senegalese Usman Sii, nella ripresa risponde Luca Tognozzi.